Ciao a tutti ragazzi, io sono Gabriele e benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox! Oggi vi farò vedere che cosa si può fare con il premium subrocaven con questa casa e anche con il pass delle macchine dove si possono colorare. Iniziamo! Vi farò un pochino il tour della mia casa per farvi capire. Se non ci scatta qualcuno che non capisce. Poi, scrivetemi anche sotto nei commenti che cosa altro potrei portare con i video. Ok, allora, qui c'è il salone con una tv cinema, con le immagini dei profumi. Non grazie. Ok, poi qua c'è un cammino che io una volta l'ho acceso per troppo tempo e mi ha preso luogo la casa. Allora, poi qui c'è la cucina con le lavatrici che non c'entrano nulla. Qua c'è un'altra cucina. Qua c'è il bagno dove posso soltanto lavare e fare la doccia. Però quando faccio la doccia non la faccio con tutti questi tipi. Poi qua c'è l'idromassaggio che è molto picco perché può anche cambiare i colori, insomma. Mi troppo bello di accedere che questo mi interessa. Ok. Saremo al piano di sopra che è proprio migliorro che quello lì più pieto. Ok, qua c'è un po' più finissimo, cioè la cosa più bella di Brokegan, diciamo. Poi qua c'è una piccola camera paretta con un balconcino per poi la cucina. Qua c'è la cassaforte dove ci stanno tutti i money. I money. Money, 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 tutti i soldi. E poi qua c'è un altro bagno, 150, 50 bagno in questa casa. Poi abbiamo bisogno di usare qui. Qui c'è diciamo la cameretta da letto. Non so più che fare Roblox da computer, quindi se qui la prepara molto bene. Allora, qui c'è la cameretta dei bambini perché c'è il letto e un castello. Poi abbiamo ancora un'altra camera da letto. Questa è l'altra camera da letto. Con un'altra, 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 un un'altra, 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 un'altra. Non posso andare sul castello, non lo posso dire sul castello. Poi, iniziamoci a caso. E vi faccio vedere, come si tratta? spero che non l'abbia visto. Qua abbiamo il garage che porta poi al giardinetto, diciamo, con una piscina. Poi c'è un'altra cosa che mi ha fatto vedere, che in realtà mi ha sconvolto, però non ho quelli che tutti i vostri appare. Allora, la prima cosa è spegnere la griglia Spegni. Spegni. Bellissimo. Fida la tua mano. Molto buono. Ok, scendiamo e non ho aggiunto superiore, che è anche molto fida, però per fare questo ci servirà un'arma. Non spara nessuno, non mi preoccupate. No, questo. Questo. Ok. Andiamo all'aeroporto, non so se anche voi lo sapete, però credo che quasi tutti voi lo sapete. Prendiamo l'arma. Prendiamo l'arma, entriamo in aeroporto e come potete vedere esce una scritta armi rilevate in aeroporto, l'arma è scappata, altrimenti la testa. Ok. Voi suggeritemi altre cose da fare, che se il primo video ci danno anche abbastanza tipo. Voi, sotto nei commenti potete anche scrivermi dei suggerimenti e io li farò. Dovete scrivere hashtag con hashtag suggerimento e io lo farò. Cioè, ci dico a qualcuno e lo farò. E quindi, per questo video è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!